Si celebra domani, venerdì 6 gennaio, la solennità dell'Epifania del Signore, ovvero della rivelazione di Dio agli uomini. In cattedrale la Messa Solenne verrà celebrata alle 18 dall'Arcivescovo Riccardo Fontana, che festeggia in questa giornata il ventunesimo anniversario della sua ordinazione episcopale. Monsignor Fontana, infatti, venne eletto il 16 dicembre del 1995, Arcivescovo di Spoleto Norcia e consacrato Vescovo il 6 gennaio 1996 nella Basilica Vaticana di San Pietro da San Giovanni Paolo II. Fra i suoi incarichi principali è stato segretario dell'Annunziatura Apostolica in Indonesia, responsabile in segreteria di Stato per l'area del sud-est asiatico, dell'Australia e dell'Oceania e per quattro anni capo della segreteria del cardinale Angelo Sodano. Il 16 luglio 2009 Benedetto XVI lo ha nominato Vescovo della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, dove ha fatto il suo ingresso il 13 settembre dello stesso anno. Con l'Epifania si celebra la prima manifestazione della divinità di Gesù all'intera umanità, con la visita solenne, l'offerta di doni altamente significativi e l'adorazione dei magi, che giunsero, secondo quanto riportato dal Vangelo di Matteo, da Oriente a Gerusalemme, guidati nel loro tragitto da una stella. I magi portarono a Gesù in dono oro, simbolo regale, incenso che si offre alla divinità e mirra, anticipazione della sua futura sofferenza redentrice. La Messa delle 18 in Cattedrale verrà trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Nel corso della celebrazione verrà conferito il mandato ai ministri straordinari della Santa Comunione e verranno istituiti 16 nuovi accoliti.